Dieci organizzazioni imprenditoriali ferraresi unite forse per la prima volta firmano un documento congiunto indirizzato al prefetto di Ferrara con proposte e misure di sostegno verso tutte le imprese del territorio coinvolte dal DPCM dello scorso 25 ottobre. Un provvedimento che ha già ripercussioni molto pesanti su moltissime attività economiche il cui impatto potrebbe avere sulle imprese ferraresi già logorate dalla crisi risvolti gravi con l'incremento di fenomeni criminali tra cui il temuto ricorso all'usura. Per questo motivo dal tavolo dell'imprenditoria ne è uscito un documento con proposte in grado di contribuire alla salvaguardia delle aziende. Richieste che vanno dalle garanzie di liquidità all'impresa attraverso il ristorno per mancato incasso alla proroga ulteriore della moratoria sui mutui, dalla cancellazione della rata Imo 2020 alla riduzione dei costi fissi delle utenze rimodulandoli al solo periodo di apertura, dall'abbattimento delle tasse locali, in particolare la tassa su rifiuti, all'esonero del pagamento della tassa per l'occupazione di spazi aere pubbliche, l'estensione a tutti i mesi dell'anno al credito d'imposta per gli affitti e provvedere al blocco degli sfratti e alle forme di accesso al credito agevolato a seconda dei differenti settori. E poi ancora una richiesta di intervento sulla flessibilità e diminuzione del costo del lavoro, prorogando tutti gli ammortizzatori sociali in deroga sino a quando sarà necessario il rafforzamento delle misure messe a disposizione nel 2020, incrementandole per il 2021 e l'estensione delle misure di sostegno a tutte le attività del commercio, del turismo e dei servizi che caratterizzano i centri storici, le comunità cittadine e locali che per gli effetti delle misure restrittive registrano effetti negativi sulle piccole imprese di vicinato. Così Confindustria Emilia Area Centro, Confagricoltura, Coldiretti, Cia Ferrara, Confcommercio e Confesercenti, Confartigianato e CNA, Confcooperative e Lega e Coppe Estense hanno presentato un documento in Camera di Commercio, un documento dove si trovano altre sette richieste rivolte alla Regione Emilia-Romagna, tra cui un bando a credito a tasso zero a sei anni con due di pre-ammortamento garantito dai consorsi fidi all'80% e poi ancora semplificazione burocratica e l'esonero di tasse come ad esempio la Tari. Misure indispensabili, spiega il tavolo dell'imprenditoria ferrarese, per mitigare l'impatto dell'ultimo DPCM, un'emergenza economica che già a partire dal lockdown della primavera scorsa ha fatto registrare a Ferrara nella provincia estense 10 punti di PIL in meno. La speranza, spiega l'osservatorio della Camera di Commercio di Ferrara, era una ripresa del 6% del PIL nel 2021, ma se dovessero esserci ulteriori restrizioni il dato non sarebbe più attendibile. Grazie a tutti.